L'altro ieri, Presidente, scadeva il termine per presentare le osservazioni contrarie al progetto di GNL di Tracking Loading nel nostro Golfo. Sono pervenute delle osservazioni? Sì, tanto le osservazioni sono osservazioni, quindi potevano essere sia favorevoli che contrarie, ma ovviamente quelle che sono giunte sono tutte osservazioni critiche, contrarie. Sono sei per la precisione, sono le osservazioni pervenute in primo luogo dal Comune di La Spezia, poi vi sono le osservazioni di due associazioni ambientaliste, Lega Ambiente e Posidonia, poi vi sono delle osservazioni pervenute da operatori economici, cioè il terminalista dell'attività croceristica che è SCCT e un altro operatore nel campo del gas che in questo caso non definirei esattamente critica perché si propone un'altra modalità che è l'osservazione del gruppo Canarbino. Noi dobbiamo fare un'istruttoria tecnica sulla base della domanda che è stata presentata. Quello a cui sono favorevole è il fatto che l'impianto di Panegaglia venga riqualificato per essere in grado di fornire gas e non soltanto di riceverlo, questo perché è strategico per il nostro Paese. Poi sul progetto track loading, quindi quello che impropriamente viene detto delle bettoline, perché non si tratta di bettoline, ma si tratta di un traghetto elettrico che trasporterà quattro autocisterne da un punto all'altro del porto, quindi da Panegaglia. La SNAM ha richiesto Calata Malaspina, adesso noi faremo le nostre valutazioni, però alla implementazione del secondo, diciamo, del pontile secondario di Panegaglia sono assolutamente favorevole, ma perché ho a cuore il destino delle forniture di gas nel nostro Paese, quindi sarebbe abbastanza sciagurato essere contrario a questa operazione. Poi dopodiché su Malaspina si possono avere tante idee.